Per comodità, per audience, parliamo sempre delle squadre al vertice, no? Stasera invece io voglio partire da Cagliari, voglio partire dalla squadra di Ranieri. Cavolo, cacchialo, cacchialo, cosa? Cavolo, ce lo merito. Cioè, attenzioniamoli un pochettino, perché questi qua, nelle ultime quattro aree hanno pareggiato col Verona, hanno vinto con l'Atalanta, per poco, e ci è mancato poco, e sbancavano San Siro, e stasera un primo tempo clamoroso, il primo tempo clamoroso dei Sardi. E pareggiano la partita, perché là c'è uno che segna su punizione, complice anche, secondo me, Macumbui in barriera, e poi in autogol. Altrimenti stiamo a porla di tre punti che, per quello che abbiamo visto in campo, sarebbero stati più che meritati. Quindi, un Cagliari che va attenzionato, da quando Ranieri voleva rassegnare l'emissione, è stato, secondo me, una mossa che ha compattato l'ambiente, e la squadra ha un'anima incredibile, ha un'anima incredibile. Oggi vedevi l'approccio veramente battagliero, e anche con qualità, perché ci sono state tante situazioni in cui il Cagliari arrivava, anzi, poteva sfruttare meglio alcune situazioni, un bel tiro di Sciomuro dopo un paio di sgasati di Lovumbo, i rigori procurati, tante, tante cose che depongono a favore del Cagliari, che fa un passettino verso la salvezza. Se la squadra è questa, è già salva, per quanto mi riguarda. Se ha questa anima, è già salva, però giochiamolo, giochiamo così. Poi andiamo a parlare della Juventus, attenzione, in seconda parte, dico la mia anche su Genoa-Lazio, un Lazio che in qualche modo ha espugnato il campo di Genoa, che non è mai semplice, con delle difficoltà, ma non è mai semplice. Per quanto riguarda la Juve, mi sembra più che evidente che il campionato sia finito per loro. Cioè, sì, qualcuno parlerà di questo secondo tempo in cui almeno c'è stata la voglia non solo di pareggiarla, ma nel finale addirittura di vincere. Ma non si può partire, non puoi partire dopo i risultati che sta ottenendo la Juventus. Con quello di stasera la Juventus fa 12 punti in 12 partite. Ribadisco, 12 punti in 12 partite è un ruolino da squadra che deve salvarsi e forse non si salva. Davvero, eh? Stiamo parlando di questo, stiamo parlando della Juventus. È una squadra che, visti i risultati, si presenta come si è presentata stasera. Vuol dire che hanno la testa altrove. Non che voglia concedere un alibi, assolutamente no, ma questo mi sembra un dato di fatto. Intanto con l'ufficialità delle cinque squadre, lo già sapevamo, ma adesso è ufficiale, le cinque squadre in Champions, questa è sicuramente un'ottima notizia per noi. Ribadisco, la Juventus doveva quantomeno provarci a prendersi la seconda posizione, che comunque vale la qualificazione alla Supercoppa, ma mi pare proprio che non ci sia nessun mordente. E se ti vengono meno motivazioni e cattivare agonistica, e a questo ci aggiungi un gioco che, parliamoci chiaro, non c'è mai stato. La forza dell'eventus nella prima parte di stagione è stata l'agonismo. Il fare un passo sempre in più e non in meno, nell'andare a lottare su ogni pallone. Se ti viene meno quell'agonismo, tutti i nodi vengono al pettine e il gioco, ragazzi, è quello che è anche oggi. Anche oggi, nel secondo tempo, l'eventus che fa, butta gente lì davanti e fate un po' voi, buttate qualche pallone nel mezzo e vediamo che succede. Ed è successo che Vlauch si inventa l'ennesimo gol su punizione, è uno dei pochi che segna. Oggi vede un giocatore che segna su punizione, specialmente con la frequenza di Vlauch, è quasi impossibile. E lui è un fattore, e lui è un fattore, ribadisco per quanto mi riguarda, c'è, secondo me, una complicità di Macumbo lì che addirittura si abbassa, però la punizione è stata attirata bene, questo indubbiamente. E poi, il secondo gol, è una palla buttata in mezzo di Hildiz, bel cross, ma che Dossena era assolutamente in anticipo, invece se la butta dentro. Poi non è che c'è stato altro che l'eventus ha costruito, che è partita dietro, Bella ha manovrato ed è arrivato. No, pallone in mezzo, una rovesciata di Vlauch, e ripeto, poco altro. Non è che c'è una squadra che ti costruisce, ti sposta la palla velocemente. Niente, ribadisco. Perlomeno oggi non ha tolto chiesa, ha buttato un po' dentro tutti. Hildiz, voi o non voi, con questi giocatori, se metti un po' di pressione, prima o poi magari qualcosa fai. E lì forse il Cagliari, no? Doveva essere bravo a ripartire, come ha fatto nel primo tempo, e magari a chiudere addirittura la partita non c'è riuscita. Forse qualcuno le criminerà sui rigori, a me sembrano netti entrambi, sul primo si era mangiato un gol fatto, praticamente, l'Ubombo. Però forse ce n'era uno anche per la Juventus, perché Mina si aiuta un po'. Mina è un volpone, si aiuta in tutti i modi, gomiti, sbracciate, è una roba clamorosa, quella usa tutti gli strumenti, la cassetta degli attrezzi del difensore, secondo me, gli è andata un po' troppo bene, diciamo così. Però cambia poco, ragazzi, stiamo a parlare francamente del nulla. Vediamo quello che, parliamo di quello che vediamo in campo, e ripeto, vediamo veramente troppo poco. I risultati dell'avvento sono lo specchio di quello che sta assaminando, cioè i 12 punti in 12 partite e il raccolto, no, di quanto tu, come dicevo prima, hai disseminato. Punto, non è che c'è tanto altro da parlare. Se non delle dichiarazioni di Giuntoli che dice siamo contenti di Allegri che sta facendo un grande lavoro, a fine anno programmeremo il futuro insieme. Io credo che queste siano le solite dichiarazioni di facciata, che è quello che devi dire in questo momento, perché finché la stagione non finisce, che dice, no, non siamo contenti, cambia, no, finché è così, devono essere queste le dichiarazioni. io non credo, non credo però che Allegri possa essere l'allenatore dell'avvento sim futuro, semplicemente perché dopo questi tre anni tu ne aggiungi un altro di Allegri, io vi chiedo cosa può dare Allegri al quarto anno, cosa può mostrare in più di quello che, di quello che ci ha fatto vedere nei primi tre. Ditemi voi se trovate una giustificazione per continuare con Allegri. Io oggi francamente faccio molta, 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 molta fatica. Genoa, Genoa, Lazio. Il gol della Lazio bellissimo, magari abbiamo visto poco, soprattutto per quanto riguarda la Lazio, specialmente magari nel primo tempo. La Lazio ha tirato una volta in porta un gol, non è che il Genoa abbia tirato tantissimo, però secondo me ha avuto delle possibilità maggiori e ricordo un 3 contro 1 dove si era il fumato praticamente Eco-Bun. Forse il tiro da fuori di Reteghi ci ha provato la giocatona, ma forse poteva lì partire meglio il Genoa. Ci sono state tante situazioni, la sponda di Goodmanson per Reteghi stesso, dove Genoa magari poteva fare un pochino meglio, però come ho detto prima, se vinci a Genova a Genova scusate, non è facile, in questo stadio è difficilissimo, quindi per farlo devi fare qualcosa di importante e il gol che ha fatto la Lazio è bello, bello, bello. Lasciate sta tutto il resto, perché sicuramente non è stata la miglior partita dei Biancocelesti, ma andate a vedere il gol della Lazio è veramente di enorme qualità e poi ci finiscono dentro quasi tutti i giocatori che in questo momento hanno fatto discutere, Felipe Anderson per il suo annuncio di essersi accasato Palmeiras, dove è andato? In Brasile se non vado errato, dove andrà o meglio, è messo un assist, una giocatona e c'è lì, lì praticamente c'è 60% del gol perché fa passare la palla in mezzo alle gambe di un avversario e da quel passaggio filtrando proprio con il piede giù, con i tempi giusti che mette praticamente in porta Camada che poi lì è molto bravo ecco l'altro giocatore Camada che in quest'anno è stato un po' spesato con Tudor lo vedo molto più dentro, lo vedo molto sì, dinamico, bella palla, bravo, bello il velo di Vesino e poi c'è Luis Alberto che mette dentro, Luis Alberto che prima dice che andrà via e poi bacia lo stesso Luis Alberto è veramente un personaggio che è un pazzo ma se non avesse quella pazzia forse non sarebbe così illuminante in campo non lo so fatto sa che ribadisco il gol della Lazio è stato bello ed è un gol comunque che in qualche modo può rilanciare le speranze bianco celesti fammela vedere un post classico la Lazio oggi è sesta Lazio oggi è sesta è a 52 punti è difficile perché la Roma ne ha 55 ma due partite meno però la Roma ha un calendario durissimo è durissimo veramente duro 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 vediamo vediamo senza ombre di dubbio la matematica la matematica non è non non lascia tutto tutto aperto servirà una Lazio diversa da quello che abbiamo visto sino ad oggi ecco questo è ovvio se riesci a dare continuità poi il discorso è sempre quello di dare continuità la Roma per esempio ci sta riuscendo alla grande con De Rossi portando a casa tantissimi risultati sia a livello di prestazione che di gioco sia a livello di prestazione che di risultati vediamo vediamo oggi non mi sento di deporre a favore della della Lazio però finché la matematica dice sì loro devono crederci hanno l'obbligo hanno l'obbligo assolutamente di dare un senso a questa a questa stagione signori fatemi sapere cosa ne pensate voi commentatele a casa se volete iscrivervi al canale un grande abbraccio da l'escrizvi al canale da l'escrizvi al canale a questa a questa a questa